Oggi scopriamo tutte le nuove funzioni che sono state integrate in Meet all'interno di Classroom ma prima se mi conoscete già bentornati altrimenti benvenuti, io sono Jessica qui sul canale parliamo di tecnologia educativa e creativa quindi se siete interessati a questi argomenti potete iscrivervi qua sotto al canale e attivare la campanellina questo è un video in collaborazione con C2 Group che è partner di Google for Education e quindi ci aiuta a scoprire tutte le soluzioni che Google mette a disposizione per le scuole queste novità che ci sono oggi sono molto importanti perché ci permettono di risolvere i problemi che abbiamo ritrovato, riscontrato e segnalato anche in questi ultimi mesi a Google soprattutto da quando è stato integrato Meet all'interno di Classroom era una bellissima novità, è una bellissima funzione perché ci permette di collegare le stanze di Meet direttamente alle nostre classi di Classroom però ovviamente nel tempo abbiamo trovato dei piccoli problemi che potevano essere risolti e adesso ci sono queste nuove funzioni che risolvono i problemi in particolare risolvono tre problemi che abbiamo riscontrato il primo era la possibilità per gli studenti di diventare organizzatori del Meet se all'interno della classe andavano a cliccare sul link di Meet prima di uno degli insegnanti quindi il primo utente che faceva l'accesso diventava organizzatore ovviamente per gli utenti che avevano la possibilità di creare delle stanze di Meet gli altri ovviamente non potevano questo problema è stato risolto perché gli studenti adesso, gli studenti della nostra classe di Classroom vengono messi in attesa, in una sala d'attesa e finché non entra all'interno di Meet in Classroom quindi del link della stanza che abbiamo collegato alla nostra classe di Classroom uno degli insegnanti i ragazzi restano, quindi gli studenti restano in questa sala d'attesa non potranno accedere al Meet, resteranno in standby finché uno degli insegnanti non entra vediamo tecnicamente come eccoci qui, allora siamo in una classe di Classroom ho già attivato il link di Meet abbiamo già visto in un video precedente come fare in ogni caso da impostazioni noi possiamo andare a gestire il link di Meet quindi magari reimpostarlo se ne abbiamo la necessità e decidere se questo link deve essere visibile agli studenti oppure quando deve essere visibile abbiamo la schermata, quindi l'anteprima anche sulla home di Classroom quindi possiamo gestire il link di Meet anche da qui, molto comodo allora all'interno di questo corso io sono insegnante e c'è anche un altro collega che ci aiuterà dopo come co-insegnante e c'è uno studente all'interno quindi io sono logata sia come insegnante che come studente con la U di utente corso restiamo proprio qua nella visualizzazione studente perché proviamo a partecipare ad una chiamata di Meet quindi ad una video lezione all'interno di Meet cliccando su partecipa quindi utilizzando Meet di Classroom che il nostro docente ha abilitato e che adesso abbiamo visibile vedete che posso partecipare il link per me è visibile vado su partecipa mi chiede se sono pronta a partecipare e vado su partecipa come vedete io sono adesso all'interno di una stanza d'attesa quindi di una sala d'attesa non mi ha fatto entrare direttamente all'interno della stanza o meglio sono all'interno però non vedo assolutamente nulla e mi dice che sono in attesa che l'organizzatore partecipi quindi la riunione inizierà solo all'arrivo dell'insegnante che è l'organizzatore quindi anche se sono entrata per prima come studente non mi fa accedere direttamente alla stanza andiamo quindi nella visualizzazione insegnante andiamo su partecipa ed ecco qui vado su partecipa di nuovo e adesso sì che la chiamata è attiva che la stanza di Meet è attiva quindi io sono entrata come insegnante vedete la Jay e all'interno vedo già che c'è un mio studente che è entrato esattamente nel momento in cui sono entrata io perché era nella stanza d'attesa vediamo anche visualizzazione studente vedete che adesso non c'è più il messaggio d'attesa il secondo problema riscontrato invece in Meet all'interno di Classroom era quello della gestione del Meeting o meglio della proprietà del Meet che ci dava poi la possibilità di attivare i controlli di gestione quindi ad esempio rimuovere gli studenti oppure silenziare gli studenti e ovviamente gestire tutti gli altri controlli rispetto alla stanza di Meet dove erano i problemi rispetto a questa gestione dell'organizzazione del Meet? prima di tutto quello che abbiamo detto un attimo fa cioè la possibilità per gli studenti di entrare per prima e di diventare direttamente proprietari e quindi gestori del Meeting quello l'abbiamo già risolto ma il secondo problema era quello relativo ai co-insegnanti quindi se nella stanza di Meet c'è più di un insegnante ci sono diversi co-insegnanti fino a qualche giorno fa non era possibile avere in compresenza diciamo così i controlli di gestione adesso invece è possibile quindi per il Meet che viene collegato alla stanza di Classroom alla classe di Classroom non solo è proprietario l'insegnante che entra per primo ma anche il collega che è co-insegnante all'interno della stanza della classe di Classroom diventerà in automatico co-proprietario e quindi avrà i controlli di gestione nella stessa stanza di Meet quindi se all'interno della stessa stanza ci dovessero essere due insegnanti della stessa classe di Classroom entrambi nello stesso momento potranno avere i controlli di gestione questo è utilissimo perché possiamo darci il cambio possiamo entrare in due insegnanti due o più insegnanti all'interno della stessa stanza di Meet e possiamo darci il cambio nella gestione oppure alternarci non è detto che se accedo io per primo come insegnante e ho i controlli di gestione poi io posso uscire eventualmente e lasciare del tutto la gestione al mio collega che è in compresenza con me e subentra dopo di me all'interno della stanza di Meet vediamo anche come funziona questa nuova possibilità eccoci allora siamo ancora all'interno della stanza di Meet all'interno c'è anche il mio studente utente corso vi faccio notare che in basso a destra ho i controlli dell'organizzatore quindi risulto organizzatore del Meet anche se non ho provato ad accedere per prima perché il mio utente era ancora in sala d'attesa adesso proviamo a far accedere il nostro co-insegnante ecco qui il nostro co-insegnante quindi il collega che c'è all'interno del nostro corso come co-insegnante ha fatto l'accesso e possiamo vedere che anche lui ha i controlli di gestione lui o lei ovviamente quindi ad esempio possiamo fare in modo che sia il nostro collega che elimini l'utente del nostro corso quindi il nostro studente ecco qui vedete che il nostro studente è stato rimosso non siamo stati noi a rimuoverlo ma è stato il nostro collega rispetto a questo però ricordatevi una cosa importante cioè che se entra un insegnante nuovo all'interno della classe di Classroom è necessario rigenerare il link così la nuova stanza di meet collegata alla Classroom potrà prendere le nuove impostazioni quindi avere come proprietari tutti i co-insegnanti compreso il co-insegnante nuovo se abbiamo un nuovo co-insegnante all'interno del nostro corso e vogliamo fare in modo che anche lui o lei possa diventare organizzatore delle meeting allora dobbiamo ricordarci in gestione di andare all'interno della sezione relativa ai link di meet e rigenerare il link quindi andiamo sul link andiamo su reimposta così ci viene dato un nuovo link e questo sarà un link per il quale noi saremo gestori ma anche il nostro co-insegnante potrà essere gestore ultimo problema che le nuove funzioni ci aiutano a risolvere è quello degli utenti esterni al nostro dominio probabilmente vi ricordate che fino a qualche giorno fa per i link di meet che erano creati direttamente all'interno di Classroom non era possibile la condivisione e quindi l'accesso da parte di utenti esterni all'interno di queste stanze di meet tranne con qualche scamotage ma non ne parliamo adesso perché tanto adesso è tutto risolto nel senso che se noi prendiamo questo nuovo link che è stato inserito all'interno delle nostre classi di Classroom possiamo condividerlo anche con un utente esterno e quest'utente può entrare all'interno della nostra stanza ovviamente come per le altre stanze busserà quindi noi proprietari vedremo il pop-up la finestrella che compare e ci chiede se vogliamo accettare quest'utente dall'esterno e noi possiamo fare le nostre valutazioni quindi anche questo è interessante perché va a sistemare tutte le problematiche che abbiamo incontrato in questi ultimi mesi di utilizzo di Classroom e di Meet assieme se volete inserire all'interno della vostra scuola Google Workspace, Chromebook e tutti gli strumenti del mondo Google per la scuola potete chiedere informazioni e contattare Alessandro De Bono che conoscete già ormai un amico del canale vi lascio tutti i riferimenti qui nell'info box nella descrizione sotto il video e vi ricordo anche che ci sono le Google News quindi tutte le altre puntate di questa rubrica vi aspetto qui sul canale tutti i giovedì per continuare a parlare assieme a me di tecnologia educativa e creativa ciao